Per noi, per il mio partito è andata assolutamente bene, però c'è anche da dire una cosa, che questo voto si dimostra per quello che è. Abbiamo sempre detto che il voto europeo non dà nessuna indicazione di un trend. Prova ne sia che in molti comuni questo voto che premiava la sinistra, poi quando si va a vedere lo spoglio elettorale, si vede che il cittadino passa da una scheda dove vota magari il PD e passa nell'altra dove sceglie il candidato della Lega. E' un'affermazione importante di una persona autorevole della sinistra, ha già provato una volta a fare il Presidente della Regione, i Veneti non l'hanno scelto, potrebbe riprovare questa volta, visto che è scontato vincere. E la Moretti come la vedrebbe invece come candidata? Non esprimo considerazioni sui candidati degli altri, ognuno faccia quello che deve fare in piena autonomia. Su quali dati vostri invece a Padova a Bitonci ha fatto un gran bel risultato, insomma rispetto al permesso. Un ottimo risultato che è la prova provata di quello che vado a dire, nel senso che nello stesso giorno i Padovani hanno dato un'espressione positiva alla sinistra agli europei, poi aprendo la scheda del comunale hanno scelto un candidato della Lega, un candidato del centro-destra, quale Bitonci.